Come è stato in grado di calcolare in maniera accurata il rischio che ciascuna donna ha di sviluppare un tumore al seno? È importante per poter programmare dei percorsi di screening che siano personalizzati sulla base del rischio e questo è proprio quello di cui si occupa il progetto Andromeda, oltre a voler sensibilizzare le donne sull'importanza degli stili di vita, che sono dei fattori di rischio modificabili, contrariamente ad esempio ai fattori genetici che sono non modificabili. Con il progetto Andromeda abbiamo già reclutato più di 15.000 donne tra Biel e Torino e queste signore, oltre ad effettuare la mamografia digitale, hanno donato al progetto parte del loro tempo perché hanno compilato un questionario molto dettagliato sugli stili di vita e si sono recate a fare un prelievo di sangue. Grazie ad una recente acquisizione da parte della Fondazione Tempia di uno strumento in grado di fare sequenziamento di nuova generazione, saremo in grado di analizzare questi campioni di sangue per valutare i nuovi marcatori genetici per il calcolo del rischio. Con il fondo vi sento in prima linea nella battaglia contro il calcolo.